Ben trovati, ben trovati dallo stadio Dall'Ara di Bologna, Bologna Spal, derby speciale per questo venerdì che anticipa la seconda giornata di Serie A speciale per mille motivi. Uno di questi è per Sinisa Mijailovic che entra in campo, penso potete ascoltare quelli che sono gli applausi uniti a una standing ovation per il tecnico serbo che si sta incamminando verso la propria panchina. L'aveva fatto a sorpresa in quel di Verona per Verona Bologna al Bente Godi, una notizia che arrivò in giornata nella gara d'esordio della stagione del campionato di Serie A. Qui c'è Mijailovic che accoglie con un inchino questi applausi calorosi, 25.000, combattiamo ogni battaglia per Sinisa e per lui in sostanza la maglia. Questo vediamo esposto negli striscioni in curva Bulgarelli, pienone l'abbiamo detto, 25.000 spettatori quest'oggi per Bologna Spal, è stato battuto il record di abbonamenti, 15.375. Dunque, record degli ultimi 15 anni, curva Bulgarelli che è completamente esaurita per quanto riguarda gli abbonati, è la festa che aleggia qui a Bologna da tutta la giornata, anzi da ieri, visto che ci sono stati i primi allenamenti con Sinisa Mijailovic, protagonista sul campo a Casteldebole e anche lì tifosi ad accogliere con un abbraccio quello della città e dei tifosi del Bologna, è il tecnico che ha ultimato il primo ciclo di terapie per la malattia che sta affrontando e che lo vede dunque fuori dall'ospedale, in panchina quest'oggi come previsto e anticipato, si è preso questo abbraccio, si è preso questo messaggio d'amore dei tifosi rosso-blu, ma non è soltanto la storia di Mijailovic, protagonista quest'oggi, anzi c'è un derby, quello tra Bologna e Spal. Siamo arrivati all'undicesimo del primo tempo, è 0-0 tra Bologna e Spal, ma c'è stata un'azione che ha visto Mattia Destra in una posizione molto defilata sulla destra, deviazione anche di un difensore che stava marcando stretto il giocatore, è stata un'imbucata all'indirizzo del numero 22 del Bologna, ci ha messo una pezza sul primo palo, Beriscia, dunque primo grande pericolo a favore del Bologna in questo primo tempo. Attenzione al centrocampo, una palla che Missiroli perde manualmente, Sanzone che può tentare la fuga, accompagnato da Poli, va a dargli sostegno sulla sinistra, c'è Dykes, palla a centroarea, Sanzone, Arnimorchio, va a raccogliere questo pallone, ha cerchiato da tre giocatori, sarebbe in zona tiro, ma viene fermato, tetta il cross, attenzione, ottimo, per destro, salvataggio sulla linea, palla e calcio d'angolo, grande azione del Bologna, invenzione da parte di Sanzone, destro con la testa, ha cercato di indirizzare dalla parte opposta rispetto a quella dove era collocato, scavalcando Beriscia, palla che stava terminando in rete, un salvataggio sulla linea, da parte, crediamo, di Vicari, ha mandato la palla in angolo. Attenzione però, perché c'è la possibilità di tiro, palla sull'esterno della rete, l'intervento non cessato di Skorupski, dunque direttamente sull'esterno, Kurtic di sinistro è andato a defilarsi sulla sinistra, ha tentato la conclusione sul primo palo, nulla di fatto, ma brivido per la difesa del Bologna. Carmignani. Grazie Ruggeri, grande occasione per il Bologna, gran parata di Beriscia, è il ventiquattresimo, è ancora 0-0 tra Bologna e Spalla, grazie proprio a questa parata del portiere della Spalla, aveva praticamente indirizzato la palla all'angolino, Andrea Poli, bella azione di ripartenza del Bologna, a rimorchio dopo un'azione sulla destra da parte di Orsolini, è arrivato per la funca il capitano del Bologna, ha praticamente preso la mira, ha messo la palla all'angolino, Beriscia però c'è arrivato con la punta delle dita, l'ha messa in angolo e ora come potete sentire è un forcing del Bologna che ci sta credendo, molte delle azioni stanno partendo sulla destra, grazie alla buona vena quest'oggi da parte di Orsolini, altro angolo ancora Sansone, svetta di testa, Tomiasu, palla fuori di non molto, Bologna che sta moltiplicando le possibilità, adesso ha tentato proprio il giapponese che di testa ha dato più in alto di tutti il nazionale nipponico, Bologna che continua nel possesso di palla, che sta raggiungendo il percentuale importante attenzione, Orsolini a tu per tu con Beriscia, esce e stoppa l'imbucata del numero 7 del Bologna, cercato e trovato alla grande da Poli con la difesa della Spal, bisogna dire che sul lato sinistro spesse volte si fa trovare impreparata, Tomiasu, una proiezione sulla destra, va a cercare Orsolini, la difesa della Spal chiude, buona ripartenza sulla destra per il Bologna, 0-0 ancora il risultato nono della ripresa, attenzione, palla centro area con il tuffo di testa di Soriano che in tuffo davanti a Beriscia, è riuscita a spedire la palla alta sopra la traversa, davvero una complessa trasformazione questa per il numero 21 del Bologna che poteva fare senza altro meglio, ma in ogni caso la difesa della Spal si è lasciata sorprendere, palla alta sopra la traversa, attenzione a questa palla che viene strappata da destra, lo cerca di mettere in movimento Soriano e ancora a destra, ha restituita la palla proprio a numero 22, palla nell'area di rigore, reclamano un calcio di rigore giocatori del Bologna, ma attenzione a Sansone con l'intervento, ennesimo salvataggio sulla linea, e palla poi sparacchiata in calcio d'angolo, un'altra imbeccata interessantissima, ma soprattutto qui si tratta di un'azione da gol sventata dalla chiusura di Vicari, mentre diversi giocatori stanno confabulando con Di Bello, visto che è possibile ci sia stato un tocco di mano, l'arbitro non l'ha visto, ma evidentemente ci sarà il VAR a sentenziare, dice di attendere per la battuta del calcio d'angolo, l'arbitro Di Bello, come annunciavamo, VAR, VAR qui a Bologna per un tocco di mano nell'area della Spal, azione che non abbiamo potuto vedere non avendo un monitor di servizio, ma è sembrato chiaro che quella opportunità generata con una ripartenza da destro che ha messo in movimento sulla sua sinistra, Soriano, è stata in qualche modo fermata da un giocatore della Spal, evidentemente c'è un possibile tocco di mano, evidentemente possibile la punizione massima, ovvero il calcio di rigore, in questo momento Di Bello sotto i nostri occhi sta monitorando e dunque tra poco deciderà per il calcio di rigore o meno, non è calcio di rigore, non è calcio di rigore, calcio d'angolo per il Bologna, il quattordicesimo sullo 0-0 tra Bologna e Spal e in contropiede di Francesco, pochi istanti fa, nel corso del minuto in cui non siamo stati collegati, si è visto praticamente da solo davanti a Skorupski, aveva bruciato sulla velocità Danilo, un'azione personale sontuosa dello scattante numero 31 della spalla, tu per tu, come detto con Skorupski, ha mandato la palla a lato, alla destra del portiere polaco. Sulla destra nel frattempo Orsolini si è liberato, potrebbe andare al cross, si libera di Igor, dentro la di rigore, attenzione, assist in area, traversa di Soriano, palla che si penna e termina fuori. Occasionissima, un grandissimo Orsolini questa serata, Igor in bambola e dunque dentro l'area piccola, in sostanza ha servito questo assist basso, è arrivato di gran carriera Soriano, palla che ha scheggiato la traversa ed è terminata fuori. Torniamo a Bologna. Dove è il ventitresimo di una ripresa che sta decollando, tutta a favore del Bologna, 0-0 il parziale, quando in pratica siamo all'ultimo quarto di gara, ancora Orsolini, sontuoso, ha fatto tutto da solo, un tiro a giro, un classico del suo repertorio e ancora una volta uno straordinario Berissa, ci ha messo una pezza con la mano destra allungata, ha tolto la palla in sostanza dal fondo del sacco, dove un tiro arcuato, stava barcando la linea di porta e ancora Bologna che sta meritando, diciamo, per le occasioni create un vantaggio che tarda ad arrivare. C'è Orsolini che sulla destra è libero, molto distante dall'area di rigore, un cross in area, miracolo ancora di Berissa sullo stacco di testa, si trattava ancora di Soriano che si è rialzato adesso ma a tu per tu con Berissa, ripartenza della SPAL di Francesco, costretto Skorupski a un'uscita spericolata, si sta animando e infiammando la gara a strappi come è accaduto, prima da una parte Soriano che è chiamato in causa per l'ennesimo intervento, in questo caso bisogna dire miracoloso di Berissa e poi dall'altra parte anche Skorupski. Ha fatto la sua parte con un'uscita di piedi su di Francesco, Bologna che attacca, attenzione, siamo sul versante sinistro, Soriano che va a dare a Dijks, cross teso di sinistro, Santander, deviazione sotto porta e ancora Berissa che ferma l'ennesimo tentativo di Orsolini stavolta dopo un primo tolpo di Santander all'altezza del dischetto, prima battuta di Orsolini, è stato immediato l'intervento di Berissa. Linea a te Carmignani. Grazie Pacitti, 41esimo 0-0 tra Bologna e SPAL, Pagella che si alza per Skorupski, grande volo su un colpo di testa, è piena area di rigore da parte di Flocari che ha schiacciato, sta crescendo la squadra di Leonardo Semplici. Il punteggio è cambiato. Scusa Pacitti, gol di Santander al 45esimo, Bologna in vantaggio ma c'è fuori gioco, fuori gioco. Ha risultato i giocatori del Bologna, inutilmente si è alzata la bandierina, l'assist in profondità di Sansone, sembrava tutto perfetto. Evidentemente è partito in ritardo il paraguaiano. Nulla di fatto, è il novantesimo, Bologna 0-0, SPAL 0. A te di nuovo, scusa, attenzione, proprio zona tira adesso per la squadra di Semplici. Manca l'attimo, Kurtic con Petagna, una triangolazione semplice, semplice con la difesa del Bologna che è rimasta immobile. Siamo al quarantottesimo, ribadiamo che saranno sei i minuti di recupero. È un Bologna che cerca di forzare i tempi che sono strettissimi, ma anche di guadagnare mette, visto che ha perso un po' di lucidità. Sono saltati un po' gli schemi, si gioca con occasioni che potrebbero essere create in ogni istante, da una parte e dall'altra. Seguiamo questa che si sta verificando sulla destra con Orsolini. Scodella di sinistra, centro aria, la palla in rete! Il gol del Bologna, uno stacco di testa con la palla che è terminata alla sinistra del portiere della Spal. Non siamo stati in grado di individuare il marcatore. Al momento non è individuabile, anche perché è accasciato a terra e i compagni di squadra, oltre ad esultare, stanno facendo segno ai sanitari di intervenire. Dunque si è sbloccata la situazione al quarantattesimo, al quarto minuto di recupero. con il vantaggio del Bologna sulla Spal e lo speaker ci aiuta. Il marcatore è Roberto Soriano che è ancora a terra. Bologna uno, Spal zero, in pieno recupero. Si giocherà ancora fino al novantaseiesimo, lo ricordiamo. Il Bologna è passato in vantaggio. Bologna uno, Spal zero, al novantatreesimo la marcatura di Roberto Soriano che si è rialzato con l'intervento dentro la del rigore. Una zuccata, mischia in area con un cross arcuato del solito Orsolini. L'ultima deviazione con la palla nell'angolino è stata proprio di Soriano. Ricordiamo che si gioca fino al cinquantunesimo che è appena passato. Ci sarà da recuperare il tempo dell'esultanza del gol, ma anche delle cure mediche. Perché ricordiamo che Soriano è rimasto a terra. Ci saluta intanto Sinisa Mialovic, salutato dal pubblico, anticipa l'uscita dal campo. Naturalmente ovazione con il Bologna. Il suo Bologna che sta terminando in attacco. Attenzione Orsolini, scambio corto, palla dentro l'area di rigore. Va il pallone dalle parti di Zemaili. Lascia partire un destro che viene raccolto dopo la deviazione da Palacio. Dentro l'area di rigore, palla messa dentro l'area piccola. Con il muro alzato da Vicari, è ancora però il Bologna che riguardagna questo pallone. Con l'inesauribile Palacio a ridosso della bandierina c'è Kurtic che lo insegue. Minuti concitatissimi. Calcio di punizione, è stato messo giù l'argentino. Ma l'arbitro decide che non è fallo, decide che è rimessa laterale per la Spal. Ma non c'è più tempo. È terminata al Dallara. Bologna batte Spal. Un gol a zero. La marcatura in pieno recupero, firmata Roberto Soriano. Una zuccata di Roberto Soriano su imbeccata di Orsolini. Palla all'angolino e dunque con questo gol il Bologna va a vincere la partita del cuore. Con un abbraccio dell'intera città a sinistra. Mijailovic è un Bologna che va a raccogliere tre punti tutto sommato meritati. Possiamo in sostanza dire una dozzina. Le azioni create. Un beriscia davvero in giornata da grande portiere. Da Superman ha detto di no più volte alla squadra in rosso-blu con splendide parate. Dopodiché però c'è stata la capitolazione. C'è stato anche un episodio VAR per un presunto rigore per il Bologna. Spal che si è fatta vedere in ripartenza. Una colossale occasione con un colpo di testa ai Miss Tiroli nell'area piccola. E anche lì un grande portiere come Skorupski ci ha messo la pezza. Direi partita portata a casa dal Bologna con merito. Bologna che sale a quattro punti in classifica. Spal che resta a zero e ancora una volta si vede superata con una squadra che ha tenuto in sostanza per 90 minuti. Deve dire grazie al suo portiere per quanto riguarda l'assetto della squadra di Semplici. Qualcosa da rivedere per quanto riguarda il Bologna. Una gara che è tutta targata. Mihajlovic è una vittoria che come nelle partite emozionanti è arrivata soltanto all'ultimo respiro. Firmata Sansone al 93esimo. Grazie ad Andrea Neri per la sua assistenza tecnica dal Dallara. E tutta Bologna ha battuto la Spal 1-0. Linea che torna allo studio.